A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai Riprendere a giocare, riprendere a sognare Riprendere quel tempo che rincorrevi tanto È Natale, a Natale si può fare di più È Natale, a Natale si può amare di più È Natale, a Natale si può fare di più Per noi, a Natale puoi A Natale puoi Dire ciò che non riesci a dire mai Che bello è stare insieme Che sembra di volare Che voglia di gridare Quanto ti voglio bene È Natale, a Natale si può fare di più È Natale, a Natale si può amare di più È Natale, a Natale si può fare di più Per noi, a Natale puoi È Natale, a Natale si può amare di più È Natale, a Natale si può fare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale puoi Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più Per noi, a Natale si può amare di più er�to no è la canale di voi e questo è il solito non sentiamo su Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 a tutti. e 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 a tutti. parola del Signore. e a tutti. 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 per l'intera Chiesa per l'Italia, una grande gioia, un grande modo per vivere con noi. Questo giorno nel Tempio delle Ferie Maggiori, in questo avvento la mia è di ciò con voi che considero come parte integrante di questa Chiesa patricana, come membri di questa grande famiglia che si sforza di vivere sulle ordine di Gesù, illuminata dalle parole del Vangelo. Vivendo dentro la città umana, a partire da ciò che noi speriamo, e speriamo l'avvento definitivo del Signore Gesù, colui che è già venuto nella nostra condizione umana, nella fragilità, al che ritornerà nella gloria, in tutta la potenza di salvezza e di redenzione che rinverserà definitivamente sull'intera famiglia umana di ogni tempo, perché la Terra abbia evidente da gustare la sua intima chiamata. questa Terra deve essere trasformata, trasfigurata, chiamata ad essere Terra del mondo, di avvivere nel solito ci e il mondo. Queste le fede cristiane, e i cristiani stanno possibendo il mondo, con i mondi dell'uomo, vengono la grande responsabilità ai fronti dell'uomo, perché è conosco il fine, e il fine è la nuova creazione, la Terra nuova in Cieli Umani. e oggi come dicevo ritorriamo nel tetto dell'effettiva gioia di appena con questo testo che ancora ci come di fronte ad una domanda accoggiata a chi è Gesù e Matteo Matteo in questa pagina tenendo infinitata proprio questa domanda chi è Gesù ci racconta inizialmente di chi è figlio Gesù ci racconta soprattutto di Cerovato ecco perché ci domone una genologia letteralmente ci domone il libro dell'angelo di Sede di Gesù Cristo così abbiamo ascoltato il mito di questa pagina evangelica dell'Evangelista Matteo che è stato proprio al patino di una storia quindi che attraversa tutta la ricerca umana da bravo fino al concedimento di Gesù che è già che è già senza avere un confine un fine da bravo fino al confine di questa storia in Gesù che è Gesù ma noi possiamo subito notare si tratta di una storia che è più del concatenarsi da sua di nuove e di generazione come precisava te adesso subito tutta di vera l'inedito di Dio, l'inaudito di Dio, perché il Signore visita questa storia fatta di nomi precisi, fatta di generazione, fatta, come abbiamo sentito, di ventrici potente, e di periodi tragici abbiamo sentito nominare l'esilio di una melodia del popolo che Dio asceglie, storia di bagnati e di regno, ma anche di personaggi irrilevanti agli occhi della grande storia umana, una storia di universalità, di labbra, riguardiamo che Abra è il padre del lavoro di tutti e di gente, ma è una storia non solo di universalità, ma è una storia che riguarda di gente umana e precisa, una storia che conosce grandi luoghi, una storia che conosce successi, ma anche fragilità. in regolità, in regolità e del campo, significativo il fatto che Luca sottolinea a testa il nome, il nome di questa donna, che congenera tutto il peccato di labbra. Sì, storia di peccato, storia di regolità, storia di fragilità. Nel primo versetto è già condensato il messaggio centrale. sin dall'inizio, l'evangelista vuole rispondere alla domanda chi è Gesù. generologia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Gesù, tu due, è chiaramente il Cristo, il Messiaio atteso, secondo quello che dovesse che Dio ha fatto anche a Davide, sì, anche a Davide. colui che, come sappiamo, confesserà al prospetto di Dio il suo grande peccato. Lui, che per l'alba dei suoi sensi, ha mandato in prima fine, in battaglia, il suo glorioso comandante, gloria, per possedere il sogno. Eppure, la genealogia di Gesù è segnalata anche da questa presenza. E i successivi versetti tracciano il divanarsi di questa storia. Sono menzionati quanti anni, e sono menzionati anche quattro donne. della cultura, qualcosa di meglio. Eppure, non si può fare almeno di nominare dana, frata, brutto, grezza, 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 grezza. Donne, segnalate nella loro vicenda personale, perché stranieri e anche perché i loro figli sono generati in modo irregolare. E' la quinta donna, l'abbiamo sentito, menzionata, è Maria di Natale. Lei è quella che sintetizza in sé la recensione massima alla generazione umana. dal nostro figlio senza conoscere l'uomo. Quindi nell'impossibilità umana a generare nulla anche dei possibili a Dio. E poi, l'ultimo madre di questa lunga cadena, che è Giuseppe, che come sottolinea luna, è lo sposo di Maria. Dalla quarta fu generale Gesù, chiamato Cristo. Questo è un altro inaudito di Dio. Non è Giuseppe, ma generale Gesù. Come abbiamo sentito nella presentazione della geografia. Pur in centro, in questa discendenza da Dio, perché da Dio viene l'evaluazione nella promessa di Dio, dalla discendenza di Dio. Ma è Dio stesso che realizza il suo progetto di salvezza, facendoci loro del suo figlio, della nostra stessa condizione. Perciò, carissimi, in questa pagina di Dio, Dio è un'angelo. Oggi non contemplati con gioia e riconoscenza, l'amore del Signore. Dio è il Signore della nostra stessa condizione. Dio è il Signore della stessa condizione. Dio è il Signore della stessa condizione. Dio è il Signore della stessa condizione. di noi. Ognuno di noi è corinto perché per la relazione prego-cristiana Abramo è senza lui colui che ci ricorda che siamo tutti parte di questa unica famiglia umana, di questa grande famiglia che ha a suo fondamento questi matriati. E oggi penso a questo nostro minore, noi ci prepaggiamo a Natale e vogliamo sentire in più, riscontrire come pensate il nostro servizio. Come pensate? Come pensate il servizio di chi fa parte proprio per scelta di vita e poi fa parte una città che ha bisogno di essere costituita, che ha bisogno di crescere nell'ordine, nell'armonia, nell'alionalità. E' bello che, come abbiamo sentito, che sia anche forza dell'ordine. Ordinare la città dell'ordine. La storia umana che incrocia con contraddizioni, che incrocia e forza dell'ordine, che incrocia in fondo la conseguenza del peccato di Dio. Il peccato di Dio rende sempre fragili le relazioni. Attena alle relazioni. E da questa stessa di noi, che in avrete pensato che abbiamo sentito molto comistati, potrete arrivare in mezzo al significato più vero del vostro servizio. Noi viviamo bene nella storia umana. Deve aiutare il grande riservio della storia della salvezza e dell'unica intera storia umana. Voi contribuite al progettivo che la storia degli uomini vada verso un contribuimento di emozioni. E questo potrebbe essere, per voi, il motivo più vero. Perché vivere va a riuscire, 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 ma a fare con le moglie della verità, della storia del figlio divino, di Gesù. Chi è Gesù? di Gesù. E per questo, facendo memoria della sua prima venuta, quella, quella fondazione di fragilità, come uno di noi, dentro questa storia, perché è questo che comporta anche, che ha delle intervenzioni rispetto a quella che dovrebbe essere la sua votazione e la credenza. La sua votazione di salvezza, anzi, la salvezza si inelva nel mondo. Quello è vero che, a volte, continua a conoscere, continua a conoscere la storia umana. Ed è per questo, che è vero che noi viviamo il Natale, custodendilo nel cuore della mente, quello che sarà il mettere pezzo che rimane, che il segno di COGNORINI È MESTIglia, fondato, sulla Çok certezza, sulla perché oggi non è mattressista. Che il signore verda definitivamente. E verda nella gloria come giudice definitivo della storia giudice di salvezza giudice che farà fortificare ogni segno di salvezza ogni segno di un due che nella storia di gloria come unico ha riscattato a ogni tanto di un bene di aggiudicare tutto quello che rimane è stato fatto in questa storia perché non lo dimentichiamo che la storia conosce le delitti e il grido delle delitti è il sangue sempre innanzi noi viviamo in una città dove sarà ancora il grido delle delitti che hanno versato il sangue per la giustizia che hanno versato il sangue per la fede ecco perché oggi vivere per noi questa generazione focalistica nella quale facciamo già loro nella masqua di Gesù nella sua victoria sulla morte oggi oggi noi stiamo continuando a risalutare il senso più vero del nostro servizio e a risalutare sapendo che noi stiamo continuando alla riscattura della storia dell'unica e l'accompagnata verso il continente dicendo ogni interna per i quali tanti e vi vogliamo ricordare tanti dei nostri convenitori dei nostri colleghi fanno una versata di loro sangue che il Signore dunque ci dia sempre di di aprireci a Gesù di Nazareth a questo figlio che è nato da la Vergine Maria e riconoscere in lui il Signore della storia Amo 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 Sorelle e fratelli parisi invochiamo a Dio il Padre e il mio Vente sia un anno della vostra preghiera in qualunità di prene sia la misericordia che lo scritto Santo ottenerà dei nostri sforzi preghiamo insieme e diciamo ascoltaci oh Signore ascoltaci Signore grazie 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 per noi e per tutti gli appartenenti appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia affinché offrendo alla comunità il quotidiano servizio a difesa della Pazza della Pazza possiamo sempre iniziali per la istruzione di una scelta che dà alzio da moneo in rispetto alla posizia degli altri ascoltaci ascoltaci Signore ascoltaci Signore per le nostre famiglie che con l'amore e sacrificio ci serve e ci sostegna nell'attenzione fedele del nostro dovere affinché possano essere più contatti gli obbligori situati ascoltaci Signore per i governanti e gli obbligatori della vostra politica affinché perseguono sempre il progetto di Pazza con un solo umano utile ad identificare ascoltaci Signore per i nostri lavori perché non si risolvano i conosci difficili per creare e per creare di fare la morte unicolo giusto e perché ricordi della sua esperanza provocate valore e della violenza allontani i mondi di un'unità 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 per l'intercessione per l'intercessione per l'bot di un'unità уетen di un'unità di un'unità Grazie a tutti. 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 Padre. Ti preghiamo per la comunità di alto, il cuore santo di questi, lo Spirito Santo, ci rischia in un solo volto. Il cuore di Padre è la tua Chiesa che si usa su tutta la terra. Rende la patrezza e l'amore che non è come il nostro padre Francesco. Il nostro nessuno comportato in agroalità di alto, tutto l'uomo sacerdotale, ricordano i nostri credenti che si sono attrapportati nella speranza della resurrezione in particolare dei nostri caratteristici. E di tutti i dei punti che si affidano di domenica a me e a potere e a potere e a potere. In tutti i teatri non si riuscita. Donnaci nel palco alla vita terna, insieme con la carta Maria, per che si riuscita. Con San Giuseppe che si riuscita. Voi mi ha postato di santa, in ogni tempo di fuori da bene. E in giacchirsi a con l'infero anche a lei con la nuova gloria. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Amo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 Grazie a tutti. tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, Grazie. 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 che c'è la riguardo Grazie a tutti. Grazie a tutti.